Con la consigliera di parità della provincia di Taranto, l'Avvocato Gina Lupo, stiamo raccogliendo le varie segnalazioni provenienti appunto dai cittadini, pertinenti ovviamente alla sua attività, il suo ufficio. E uno degli argomenti più tristemente gettonati è quello del bullismo. E allora Avvocato Gina Lupo, intanto cosa è questo bullismo, in cosa si sostanzia e da dove scaturisce questa denominazione? Noi siamo il termine bullismo, è un termine che viene da bullying in inglese, boel addirittura londese che significava fratello, cioè il ragazzaccio, il ragazzo un po' così violento, non aveva ancora un'eccezione al termine negativa. Ha invece un termine negativo da noi in Italia e in effetti sono tante le richieste, devo dirti Luigi, più da parte dei genitori che hanno figli vittime o figlie vittime di bullismo. Perché il genitore che ha il figlio bullo tende, lo vedremo magari dopo, tende a sottovalutare il comportamento del figlio. E' un termine che sta a significare un comportamento intenzionale, violento, di prevaricazione, di comportamenti, di prevaricazione più comportamenti messi in opera contro un soggetto debole. Può essere il bambino che ha gli occhiali, può essere la bambina cicciottella, può essere il bambino il compagno di scuola silenzioso, spesso il diverso. E poi il termine ha avuto un'accezione anche di omofobia nei confronti del violento. Ma il tema del bullismo è più collegato a questa serie di comportamenti tra ragazzi che sono sintomo di una prevaricazione del più forte nei confronti del più debole. Ecco, andiamo ora così ad analizzare le singole figure, gli attori di questa realtà del bullismo. E partiamo dal primo soggetto. Domanda, chi è il bullo? Perché poi analizzeremo il bullo, appunto, ora poi la vittima e il contesto, gli spettatori, il, come dire, quella maggioranza silente che fa sì che il bullo possa, tra virgolette, spadroneggiare. E allora partiamo dalla figura del bullo. Sì, consentimi di dirti che anche questa volta sei stato puntuale, perché quando parliamo di bullismo in realtà uno penserebbe, si penserebbe a due soggetti interessati, bullo e vittima. In realtà c'è un terzo protagonista, che è il pubblico di spettatori, di attendenti, come li chiamiamo noi, la cosiddetta maggioranza silenziosa. C'è sempre una platea in cui il bullo manifesta la sua azione. Quindi sono tre le parti che dobbiamo interessare. Mi hai fatto la domanda di chi è il bullo. Beh, il bullo, innanzitutto abbiamo un bullo dominante, cioè proprio il bullo che fa l'azione di prevaricazione. Il leader, diciamo, negativo della situazione. È una persona che cova i sentimenti nei confronti degli altri. E soprattutto, quello che dicono gli psicologi, è una persona, è un ragazzo, è una ragazza. Perché ricordiamoci che il bullo può essere anche una ragazza, poi lo vedremo quando parleremo dei casi magari concreti. Che non ha empatia. Cioè lui non riesce o lei non riescono a mettersi nei panni dell'altro, del compagno vessato. Non hanno empatia, significa che non provano emozioni. Sono soggetti che hanno delle problematiche legate all'infanzia. Spesso, il più delle volte, loro stessi sono stati vittime di bullismo. Magari da parte di un fratello maggiore o da parte della classe. Quindi covano questo risentimento che sfogano così. A parte il bullo dominante, che ti devo dire che è anche un soggetto che peggiora con l'età. Quando il bullo è dominante, tendenzialmente, noi vedremo che il bullismo ha una fascia d'età molto particolare, adolescenziale. Poi tende a scemare l'azione man mano che diventi grande e comprendi le conseguenze della tua azione. Il bullo dominante invece tende addirittura a peggiorare e a delinquere anche dopo. Abbiamo anche il bullo gregario. Chi è il bullo gregario? Il bullo che spalleggia il dominante, cioè il compagno, quello che non lo lascia mai da solo. Che spera di essere come lui un domani, però non ha la caratteristica negativa tanto da essere un bullo dominante. Che appoggia il bullo dominante, che magari lo sobbilla. È quello che suggerisce, ricordiamoci il libro cuore, no? Magari è quello che suggerisce l'azione cattiva per ricordizzare il compagno oppure la parola da adoperare. È quello proprio il sobbillatore.